A Santa Cesaria Terme la bellezza del mare e la vista mozzafiato fanno da contrattare al degrado e all'incuria. Una situazione che va avanti da anni e che sempre da anni viene denunciata dai residenti e dai turisti che scelgono questa località come meta delle proprie vacanze. Eppure nulla è cambiato, anzi la situazione è persino peggiorata. Da qui la manifestazione di protesta promossa dall'associazione Amici del Belvedere che punta l'indice su quelle che definisce scelte scelerate delle amministrazioni comunali succedutesi negli ultimi decenni, incapaci di gestire una località di pregio come Santa Cesaria e che hanno prodotto la tanto temuta desertificazione in quella che una volta era soprannominata la perla del Salento. Tra le criticità principali il progetto per contrastare il fenomeno della falesia fermò al palo da oltre dieci anni a causa di una serie di contenziosi tra la ditta paltatrice e il comune. Altro problema principale di Santa Cesaria è il degrado in cui versa l'intero territorio, siamo pieni di spazzatura, di erba secca da tutte le parti, la pulizia viene effettuata solo in prossimità se viene effettuata dei mesi estivi, molte attività commerciali hanno chiuso, altre stanno chiudendo e speriamo che qualcosa si possa muovere. Non si può più attendere e adesso veramente per dire basta perché tutto sto degrado è impossibile insomma non vedere con gli occhi diciamo chiusi, l'unica cosa che chiedo e vogliamo soltanto chiarezza in tutto quello che si fa perché non c'è programmazione, non c'è niente, noi siamo veramente stanchi di questa situazione.